Attenzione ai tentativi di truffa quando organizzate le vostre vacanze in autonomia utilizzando i portali online. Ecco i consigli che la Polizia Postale ha diffuso in questi giorni. In primo luogo è sempre bene controllare gli indirizzi dei portali con i quali si sceglie di prenotare e verificare che siano reali e che non portino attraverso link ad altre piattaforme o a siti diversi. Poi bisogna prestare attenzione agli annunci leggendoli attentamente. I sospetti possono nascere se il profilo utente di chi propone un immobile in affitto è troppo recente oppure se gli annunci contengono descrizioni troppo vaghe e insospettirsi se la trattativa procede in maniera diversa da come ce la saremmo aspettata. Ad esempio se il proprietario della casa che avremmo scelto di affittare dice di essere all'estero e di non poter accogliere di persona il cliente e chiede di effettuare entro poche ore un bonifico internazionale oppure se il proprietario suggerisce di utilizzare per la trattativa non una piattaforma ufficiale di affitto breve ma la posta elettronica o un'applicazione di messaggistica promettendo magari uno sconto. Occorre diffidare anche da chi chiede subito l'intera cifra per l'affitto della casa perché prima di versare il saldo è bene rendersi conto delle reali condizioni dell'immobile. Esistono anche annunci esca al cliente. Una volta giunta a destinazione viene chiesto un cambio di sistemazione per un problema improvviso. Anche in questo caso occorre documentare sempre tutto per poter chiedere eventualmente un rimborso.